Tuogente.com è il marketplace digitale utilizzato da centinaia di aziende alla ricerca di agenti di commercio profilati e pronti a cogliere nuove opportunità di carriera. Entrare in contatto con i candidati ideali per la vostra impresa è facilissimo. Dalla pagina Nuovo annuncio, indicate il tipo di figura professionale che state cercando, il vostro settore merceologico e il testo del vostro annuncio. Indicate inoltre le regioni dove volete effettuare la ricerca, la durata del servizio e i dati della vostra società. L'annuncio verrà controllato e ottimizzato dal nostro team e pubblicato entro pochissime ore. Grazie alla propria infrastruttura innovativa, Tuogente.com pubblicherà il vostro annuncio in oltre 250 punti di visibilità e vi permetterà di raggiungere oltre 200.000 potenziali candidati iscritti al nostro network. Grazie all'invio settimanale di e-mail profilate, attraverso la pubblicazione sponsorizzata nei crawler e motori di ricerca, nei social network e nei forum di discussione online. Un servizio che vi permetterà di raccogliere più candidature possibile e in linea con la vostra ricerca. Il facile ed intuitivo pannello di controllo vi permetterà di visionare e gestire le candidature ricevute, accedere ai dati del candidato, visualizzare la lettera di presentazione e il curriculum vite. Potrete inoltre classificare le candidature per qualità, area geografica e status di contatto, in modo da gestire al meglio la fase di recruiting. Un funzionale pannello di analisi vi permetterà inoltre di visualizzare le candidature per area geografica, analizzare l'andamento della campagna e valutare nell'insieme le candidature ottenute. Tuoagente.com è questo e molto altro. Scopri ora le potenzialità del servizio che vi mette in contatto con i migliori agenti di commercio e vi supporta nello sviluppo di una forza vendita vincente.